Ora ti farai il giro di in store, ma di base la tua casa resta a Roma, per ora, mi sembra di capire? Adesso sì, penso pure per... Cioè è difficile... Sì, no, io più dei tot non ce so stare fuori Roma. Ok, ma vabbè con le date dovrai necessariamente fare... Sì, no, beh certo, però che so, due giorni, tre giorni al massimo, poi sei tornato a casa. Cos'è che ti manca quando sei fuori Roma? Ma tutto, ambiente, amici, tutto, un po' tutto, pure l'aria che respiri, capito? Ho parlato. Ho parlato tantissimo. Ho parlato di tanti uovo a casa.